Buongiorno a tutti, Riccardo. Ci ha approcciato in azienda un grosso investitore russo che ha anche un passato nel real estate nel suo paese, ha fatto diversi quartieri, quindi è un develop per un costruttore, ma che non ha esperienza perché vive da pochissimo tempo a Dubai o comunque negli Emirati Arabi. Ci ha approcciato in azienda, dopo aver scelto fra le più grosse aziende, ha approcciato un paio, siamo in contatto per suggerirgli degli investimenti. Queste persone hanno a disposizione capitali importanti, per cui si parla di investitori istituzionali che hanno diversi milioni di dollari a disposizione e quindi la responsabilità di un'azienda, di un agente e di un consulente immobiliare e poi dargli le soluzioni giuste per ridurre al minimo quelli che sono i rischi che inevitabilmente sono legati a qualunque investimento. Di certo proponendo i costruttori migliori con un background forte nelle location premium a Dubai, in progetti che promettono soltanto crescita per la loro posizione, la loro qualità e tanti altri motivi. Facendo già questo riduci tantissimo il rischio e hai grandissime opportunità di un ritorno sull'investimento elevato. Questa persona cerca, ci ha chiesto delle opportunità attorno al 20-30% in un anno, quindi lui si aspetta di avere un ritorno sull'investimento da un 20-30% l'ordo in un anno. Poi l'ordo è anche netto Dubai perché sui investimenti immobiliari, sui guadagni, sui capital gain, sul profitto di un'operazione immobiliare non ci sono tasse. È molto interessante lavorare con queste persone perché ti metti proprio alla prova, è molto sfidante, riesci a trovare opportunità interessanti sul mercato che sono comunque alla portata di tutti. Perché è vero che questa persona ha diversi milioni a disposizione, ma chiunque può avere un investimento che può fare questi rendimenti anche comprando un appartamento. Chiaramente quando compri un piano intero o hai i capitali per comprare due ville sulla palma e strutturarle e rivenderle, chiaramente hai più possibilità, più opportunità perché fai leva sul capitale. Per maggiori informazioni contattati.